Cari proprietari, buona domenica a tutti! Oggi vi parlo del tumore mammario della cagna e minor misura della gatta. Sul blog ovviamente trovate un articolo in cui c'è scritto tutto in maniera dettagliata, ve lo metto qui nello swipe. Tra l'altro proprio domenica scorsa si è tenuto un focus on al congresso di Rimini, a quale tutti i nuovi veterinari partecipiamo. Ovviamente quest'anno si è tenuto online, ma è stato molto interessante questo brainstorming fra oncologi e chirurghi che hanno parlato appunto di questo argomento. Quindi sono fresca fresca di congresso. Partiamo dall'inizio, e cioè dovete abituarvi a palpare le mammelle della cagna e della gatta. Quindi quando le carezzate sulla pancia abituatevi a tastare in modo da sentire se sono dei noduli. Nel caso in cui riscontriate un nodulino, anche piccolo, è subito da far vedere. Non si aspetta a vedere se cresce. Questo vale per tutti i tumori, a maggior ragione per il tumore mammario. Quindi la frase aspettiamo a vedere se cresce, cancellatela dal vocabolario. Considerate che i nodulini possono essere anche molto piccoli. E quindi, ah ce l'adori qua! Bisogna palpare tutta la fila mammaria così. Proprio spingiando con le dita. Perché possono essere proprio dei piccoli nodulini, anche grandi, proprio come una lenticchia. E li sentite perché sono abbastanza duri al tatto. O tipo dei piccoli sassolini sottopelle. Per quanto riguarda il tumore mammario, il tempismo è tutto. Bisogna accorgersene che sono ancora molto piccoli. Già sopra il centimetro la prognosi cambia di molto e peggiora. Poi è ovvio che dipende anche dal tipo di tumore. Perché se sei benigno, il problema non c'è. Ma nel caso dei tumori maligni, al di sopra di un centimetro, incominciamo ad essere veramente in ritardo. A questo punto, cosa vi si prospetterà? Se avete trovato un nodulino mammario? Allora, il tumore mammario è un po' diverso dagli altri tumori. Anche se appunto in quest'ultimo congresso si è rivisto un po' le cose. Ma il famoso percorso di stadiazione tumorale che si deve sempre fare per tutti i tipi di tumori, nel tumore mammario ha qualche eccezione. Nel caso del tumore mammario, la citologia non ci dà praticamente nessun tipo di informazione. A meno che non abbiamo il dubbio con un mastocitoma o con un altro tipo di tumore. Quindi, cosa hanno detto al congresso? Per fare la citologia la potete anche fare, sapendo che se è un mastocitoma o un altro tipo di tumore, avete una risposta significativa. Altrimenti, non avete un'idea di che tipo di tumore mammario sia. Per quanto invece riguarda la biopsia da inviare all'istologia, ha senso farla solamente se abbiamo un sospetto clinico di carcinoma di tipo infiammatorio, che è un tumore mammario a prognosi in fausta sul breve periodo. Questo però resta un approccio molto teorico al tumore mammario. A lato pratico, per quello che vedo io anche fare nelle cliniche e gli ambulatori, tendenzialmente alla presenza di un nodulo dove c'è un forte sospetto clinico di tumore mammario, si va a fare la mastectomia e la diagnosi, quindi la sia 10 giorni dopo, più o meno, lavorativi dall'intervento chirurgico. Non che sia sbagliato questo approccio, assolutamente, anche perché considerate che il cane per fare la biopsia va comunque addormentato. Quindi a quel punto lì, invece di fare due anestesie a distanza di 10 giorni, gli si fa un'anestesia sola e si fa direttamente all'intervento chirurgico. Si risparmia tempo. Cosa succede? Se è un carcinoma infiammatorio, l'abbiamo operato e abbiamo comunque una prognosi in fausta. Ecco, questa è l'unica pecca di questo metodo. Per fortuna non sono così frequenti i carcinomi infiammatori. Per quanto riguarda tutti gli altri tumori, comunque l'iter da seguire è quello. Quindi si va a togliere la fila mammaria o parte di essa e dopo un mesetto, se ci sono degli altri tumori nell'altra fila, l'altra fila mammaria. Mi raccomando, non si vanno a togliere le due linee mammari insieme, a meno che non si vadano a togliere solamente le ultime due inguinali, quindi la quarta e la quinta, perché in quel caso lì a livello inguinale abbiamo abbastanza tessuto per chiudere. A livello toracico non si possono togliere tutte e due le file perché non c'è abbastanza spazio per chiudere. Si va a fare una fortissima attrazione sui tessuti, dei punti di suture estremamente tesi e quindi un'alta casistica di apertura delle ferite, cedimento dei punti, oltre al dolore indicibile che sente l'animale. Quindi una fila per volta. La mastectomia è un intervento molto molto doloroso e questo anche quando si toglie una fila sola, perché comunque c'è una grande pereta di tessuto e c'è trazione sui punti. Quindi il consiglio che da anestesista mi sento di dare è quello di trattare sempre il dolore post-operatorio con la pompa elastomerica a base di docaina. Quindi ve l'ho già fatto vedere molte volte, c'è una foto anche nell'articolo che vi ho linkato prima, in cui praticamente il cane viene dimesso e portato a casa con un'infusione sottofasciale di anestetico locale che dura per 48 ore. In questo modo non ha nessun dolore e il recupero è velocissimo. Purtroppo la pompa elastomerica non si può mettere nei cani che vivono all'aperto, quindi che non vengono custoditi, ma solamente nel cane che sta in casa sotto stretto controllo, perché comunque il cane viene dimesso con una retina e una bottiglietta legata sopra il collo con un catetere che va dentro la ferita, quindi ci vuole un minimo di controllo da parte del proprietario. Nel gatto, idem, non si può mettere la pompa elastomerica a base di docaina, per un discorso di sovradosaggio. Si possono usare i cateteri multiforo nella ferita in cui va somministrato un anestetico locale di altro tipo ogni 6 ore, quindi comunque si può fare un trattamento lo stesso, ma non ha questa bottiglia legata sopra. Quindi diciamo che il metodo per non far sentire dolore all'animale si trova. Un argomento molto spigoloso che è stato trattato al congresso è quello dell'effettuare la sterilizzazione nella cagna nel contempo della mastectomia. Allora, sì, nel senso si sterilizza, quello che si fa oggi diciamo, si sterilizza per prevenire le recidive. Però è stato sollevato un dubbio, cioè se noi sterilizziamo evitiamo le recidive dei tumori benigni. Ma per i tumori maligni, in teoria l'effetto regolatore degli ormoni ridurrebbe la malignità dei tumori maligni, l'aggressività diciamo. E quindi c'era appunto l'acitologa che diceva, occhio, che se sterilizziamo e poi abbiamo una recidiva di tumore mammario maligno potrebbe essere più cattivo. La risposta finale quindi è, facciamo la mastectomia radicale. Quindi nel caso in cui all'istologia ci venga fuori che è un tumore maligno, noi andiamo a fare una mastectomia radicale. Quindi andiamo a sportare anche tutta l'altra fila mammaria in questo modo, anche senza l'effetto regolatore degli ormoni, non abbiamo il rischio di una ripresentazione del problema in maniera più aggressiva. Capisco che sia un discorso un po' complicato, però è tutto basato sul fatto che gli ormoni femminili, sessuali diciamo, hanno un effetto regolatore, cioè moderatore diciamo, dell'aggressività del tumore maligno. E quindi è questo il concetto. Tant'è vero che l'oncologa diceva, se mi arriva una cagna sterilizzata con un tumore mammario, la prima cosa che penso è che sia un tumore più cattivo, piuttosto che se mi arriva una cagna intera con un tumore mammario. A quel punto posso pensare che sia un tumore un po' meno cattivo. Ok? Però sono tutti discorsi molto teorici per voi proprietari, ve li riporto giustamente per darvi completezza al discorso, se no poi non capite perché si sterilizza oppure no. E su questo discorso degli ormoni mi rallaccio al discorso che hanno fatto sempre anche al congresso della sterilizzazione precoce. Allora è vero che riduce i tumori mammari? Vi ricordate che tempo fa c'era uno studio che diceva che con la sterilizzazione prima del primo calore non c'era possibilità di avere tumori mammari? E via discorrendo. È stato molto rivisto questo concetto, ve l'avevo già detto, perché in realtà gli ormoni, è vero che l'assenza degli ormoni riduce la comparsa numericamente di tumori benigni. Ma se compare poi un tumore benigno può trasformarsi in maligno con maggiore aggressività proprio perché non c'è l'effetto regolatore degli ormoni. E' ovvio che una verità assoluta non c'è in medicina, è spesso così, ci sono delle filosofie di pensiero che interpretano in maniera diversa gli studi. L'unica cosa che sappiamo è che ormai la sterilizzazione precoce prima del primo calore non si fa perché si è visto che comunque aumenta l'incidenza di altri tipi di tumori. Oltre a non portare a un completo sviluppo psicologico dell'animale, quindi è stata un po' abbandonata, se non per casi estremi di convivenza tra maschi e femmine, ad esempio, insomma, ovvio che se si è costretti si fa. Però, seguendo, diciamo, ciò che la scienza ci dice, ad oggi si cerca di evitare. Quindi si aspetta almeno il primo calore, eventualmente il secondo. I tumori mammari sono prevenuti in parte, ma quei pochi che compaiono forse sono meno maligni. Questo è un pochino il concetto. Nella gatta, così come nel gatto, è praticamente impossibile aspettare lo sviluppo sessuale perché, come sapete, il proprietario impazzisce, quindi aspettare il calore nella gatta è un suicidio. Però, per noi, perché incomincia a smiagolare o le riuscire di casa diventa un incubo, io ho fatto questa esperienza e sinceramente non me la consiglio. Quindi nelle gatte ancora si sterilizza prima del primo calore, quasi per forza. I tumori maligni sono ravissimi, ma quando ci sono, sono molto cattivi. Proprio per il discorso che facevamo prima. Quindi nella gatta la prognose è peggiore e la mastectomia va sempre fatta radicale nella gatta. Si va a togliere prima una linea, poi l'altra e si asporta tutto per evitare recidive. Bene, credo di avervi detto tutto. Ho avuto gli appunti del congresso, quindi mi sono segnato tutto quello di fondamentale che hanno detto e ve l'ho riportato. Se ci sono delle domande, fatemi qui le domande nel box e cercherò di rispondere a tutti. Ciao! Grazie! 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 Grazie!